Sì, un pochino quando esci di questo stadio esci sempre sconfitto, ma a tutti i livelli. Secondo me quando ci sono delle decisioni 50-50 poche volte vieni premiato. Ho detto che il rigore del fallo di mano bisogna unificare i criteri, bisogna capire quale mani sì e quale no. Quest'anno li ha andati quasi tutti. Secondo me è un rigore netto, poi se non te lo danno oggi ragazzi pazienza che dobbiamo fare, non possiamo fare niente di più ormai. Per me è un rigore netto, anche per i giocatori della Juventus penso sia un rigore netto perché occupa spazio che non deve con il braccio e questi si fiscano. Poi se ti chiamano al VAR 9 su 10 volte cambi decisione, però oggi non è stata così. C'è anche grande voglia di giocare la prossima partita perché la prestazione oggi penso sia stata all'altezza ed è quello che volevamo. Se giochiamo così sicuramente si perderanno poche partite da qui alla fine. Però la realtà è che abbiamo fatto tre sconfitte in quattro partite e che abbiamo sommato un punto negli ultimi 12. Quindi sabato ci aspetta un'altra finale e bisogna vincere.